Per attirare l'attenzione sul calcio femminile bisogna parlare della sua omessessualità, è un paradosso questo secondo me, bisogna dire che una ragazza sta con un'altra ragazza per attirare l'attenzione della gente, l'attenzione mediatica, di sponsor in questo modo, abbiamo sbagliato tutto allora dalla vita noi, secondo me questo è un grosso problema, io della mia vita privata faccio quello che voglio, ci sono tanti calciatori che si coprono con un'altra relazione, si sa, così come qualsiasi altro sportivo per evitare i famosi pregiudizi.